L'OPEC si avvicina a un accordo per rallentare la produzione di petrolio evitando nuovi cali del prezzo. I paesi produttori potrebbero adottare la decisione verso fine novembre. Anche il ministro degli esteri saudita si dice disposto ad accettare una posizione comune. Il primo ministro iracheno, al-Abadi, è pronto a ridurre la produzione di greggio, anche pur amettendo che il suo paese ha bisogno di ristabilire le sue capacità produttive. L'Iran, dopo anni di freddezza, si è detto disposto a seguire l'indirizzo degli altri paesi produttori.